adesso gli dà una gasata e lo porto via ancora adesso puoi andare di diritto no andiamo in su tanto ormai direi che oggi ne abbiamo fatte ecco perché mi si è sganciato il coso porca l'altra dicevo ma perché mi viene davanti mi si è sganciato quel scemo qua non gli ispira comunque è un'altra roba adesso adesso puoi davvero andare lì in darsù a zero stè stè io vengo di là mi piace di più di lì mi piace di lì scorta perché poi quando giri passi in mezzo bravo meglio ancora meglio e che vedi come questo la butta tutta di qua va tutta dentro lì c'è un scherchio da che non poteva stare in mezzo e la butta tutta di là di là è più alto quasi quasi è più bello arrivare dai sassi che non da quel pezzo lì allora l'hai fatta come il dito eh demo vai 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 a zero ma c'è un treffato oh allora vai